Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nuovo appuntamento di Messaggi e profezie. Dio vi benedica, sia notato il nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, l'ode e gloria a Cristo e Ave Maria. Bene, andiamo a leggere oggi il messaggio di Anguera e commentarlo ovviamente, secondo tanto discernimento, il messaggio di Anguera del 26 di novembre 2019. Quindi andiamo a leggere che cosa dice questo messaggio, cari fratelli e care sorelle. Dice, cari figli, non temete, niente e nessuno potrà distruggere quello che viene da Dio. E questo lo sappiamo bene, cari fratelli e sorelle, quello che arriva dal Signore non lo ferma nessuno, ovviamente. Ovviamente dice che i nemici spargeranno la confusione, questo è chiaro, basta vedere quello che sta succedendo sia nella Chiesa che esternamente alla Chiesa quanta confusione che si sta spargendo proprio per distruggere che cosa? La verità di Gesù, è chiaro. Ma la vittoria sarà del Signore. Amate e difendete la verità. Curate la vostra vita spirituale. Se non si cura la vita spirituale davanti al tabernacolo, per i fratelli e sorelle, ma dove andiamo? È lì che bisogna curare la vita spirituale e fare la volontà di Dio. E viverla la volontà di Dio. Che è diverso. Cioè, è importante farla questa cosa. Cercate i tesori di Dio, perché questi contribuiranno alla vostra crescita della fede. Cioè, non bisogna attaccarsi ai tesori della terra, ma ai tesori che arrivano dal cielo, fratelli e sorelle. È perché è da lì che cresciamo nello spirito. Ed è una grazia che arriva dal cielo. E poi dice, non vi allontanate dal cammino che vi ho indicato, perché la Vergine Maria ci ha dato un cammino. Nel cammino è andare verso il tabernacolo, verso Cristo, fratelli e sorelle. Tempi difficili verranno, e solamente coloro che amano la verità rimarranno fermi nella fede. Cioè, i tempi sono difficili, cari fratelli e sorelle. Questo è chiaro. Lo sappiamo, la Vergine Maria ce l'ha detto che saranno così. E solamente coloro, ecco, dice, che amano la verità, rimarranno fermi nella fede. Dice, pregate. La preghiera è fondamentale, fratelli e sorelle. Pregate, pregate, pregate. E' questo che ci sta dicendo. E dice, cercate forza nel Vangelo e nella Santa Eucaristia, fratelli e sorelle. Lo diciamo sempre. La forza grande che ce lo dà il Signore è proprio nel Santo Vangelo, quindi nella Santa Parola di Dio e nella Santa Eucaristia. Chi dice il contrario, non ascoltateli. Dopo tutta la tribolazione, il Signore vi ricompenserà generosamente per la vostra fedeltà. Non tiratevi indietro. Ecco, bisogna passarla questa tribolazione che avverrà, come nella vita di tutti i giorni, non solo quella della Chiesa, ma anche quella della vita di tutti i giorni. Poi dice, questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirmi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Bene, cari fratelli e sorelle, vedete che questi messaggi sono sempre più forti, sono sempre più forti nel senso che ci fanno capire quello che stiamo vivendo, cari fratelli e sorelle, e non stiamo vivendo, diciamo, dei periodi molto belli. Però bisogna chiedere al Signore la fede, al Signore Gesù, senza di quello non andiamo da nessuna parte e fare la volontà veramente viverla. Se potete, se volete, diffondete questi messaggi che arrivano dal cielo, come ci ricorda sempre la Vergine Maria. Preghiamo per la Santa Chiesa, per il Papa, andiamo alla Santa Messa. Questo è quello che dobbiamo fare, fratelli e sorelle, e fare la carità nel nome del Signore, senza dire niente a nessuno, fratelli e sorelle. Ecco, questa è la cosa più bella che si può fare. Bene, cari fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia lodato il nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà. Lode e gloria a Cristo.